allora benvenuti a parco leonardo siamo in questo momento a vedere la vetrina di gruppo clark date bei manichini c'è bellissima roba veramente date che eleganza che stile è tutto molto bello veramente vediamo attenzione vediamo la massa questi sono due soggetti veramente molto interessanti guardate bei manichini sto manichino c'ha una barba incolta incredibile pare proprio realistico hanno fatto certi tratti assurdi è bellissimo è più bello il manichino che i vestiti invece questo c'ha pure i capelli a 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